e veniamo adesso a parlarvi di riccardo guarnieri ossia il cavaliere del trono ovar che da poco è rientrato a fare parte del programma di maria de filippi la sua storia a uomini e donne è veramente lunghissima e non ci rimettiamo a raccontarla fatto sta che riccardo guarnieri ha deciso di rimettersi in gioco totalmente e lo ha fatto senza roberta di padua e senza i da platano anche se come abbiamo visto e come vi raccontiamo dalle anticipazioni di uomini e donne lei sembra che sia sotto tutta treni italia per il cavaliere di taranto ma questa volta ve ne parliamo per un altro motivo c'è una segnalazione infatti che riguarda proprio lui non è certamente una segnalazione degna di nota ossia si tratta di una foto che lo stesso cavaliere ha fatto con una sua fans mentre si trovava in provincia di taranto e nemmeno per fare serata o altro solo per fare una passeggiata con amici una fans del programma lo ha visto ed emozionata gli ha chiesto di fare una foto ovviamente riccardo guarnieri che insomma è sempre stato un uomo di cuore che vi possa stare simpatico o meno non si è tirato indietro i dubbi di devianira marzano su riccardo guarnieri fotografato con un'altra fuori da uomini e donne fin qui insomma non vi stiamo raccontando nulla di anomalo ma cose che capitano nella normalità ma da qui in poi si è aggiunta devianira marzano nota web influencer che su questa foto si è posta degli interrogativi ossia ma riccardo se esce con altre donne che motivo ha di andare in trasmissione per trovare cosa gli sponsor su instagram ovviamente la stessa web influencer posa l'accento sul fatto che riccardo guarnieri vada a uomini e donne unicamente per instagram e sugli sponsor secondo voi stanno veramente così le cose secondo me in questo caso la nota web influencer ha un attimino marciato sopra insomma non è poi una cosa tanto grave lo fanno un po tutti quelli del mondo dello spettacolo di monetizzare in un modo o in un altro la loro visibilità